Il tema portante dalla prima edizione è quello dell'accoglienza e dell'inclusione. Le porte aperte stanno a significare anche questo. Quest'anno sarà innervato principalmente dagli incontri sull'immigrazione che faremo all'archeologico con Paolo Frater che dialogherà con il sociologo Stefano Allievi ma anche con il concerto di Willy Peiote che è portatore di messaggi e di testi sicuramente legati all'inclusione e all'antirazzismo ma anche attraverso specifiche iniziative insieme con associazioni locali come l'Anfaso o come i centri di accoglienza vari che sul territorio ci sono. Poi un altro tema è quello della figura del padre o della genitorialità in genere incarnato sicuramente in prima istanza dal reading dell'attore Luigi Locascio su Il pezzo di Franz Kafka lettera al padre ma anche per esempio dall'incontro con la scrittrice slovena Tatiana Roic e il suo ultimo romanzo La figlia che vorrei avere. Anche altre iniziative saranno su questo tema. La lotta alle mafie che abbiamo iniziato con un'anteprima di una serie di incontri dedicati alla battaglia contro le varie infiltrazioni ed emersioni mafiose che anche in questo territorio ormai sono manifeste e che avranno un appuntamento il sabato 30 giugno con Attilio Bolzoni che presenterà due dei suoi libri. Il tema del lavoro e dei lavoratori che affrontiamo attraverso due mostre straordinarie una con un'artista di origine iraniana che vive e lavora negli Stati Uniti era Macfazel, è un'installazione di un'opera d'arte, un'opera d'arte contemporanea che farà dialogare gli strumenti del lavoro contemporanei con quelli dell'antichità e invece una mostra di un bravissimo fotografo cremonese Ezio Quiresi con immagini degli anni 50 di lavoratori e lavoratrici che in quel momento incarnavano la rinascita del paese. Poi il tema ancora della violenza e delle fragilità delle violenze nei confronti dei soggetti più fragili come alcuni incontri che abbiamo dedicato al bullismo in chiave fumettistica e in chiave di scrittura oppure con la presentazione dell'ultimo romanzo di Veronica Raimo, Miden. Un ultimo tema è quello del Novecento sempre in filigrane di sottofondo con la presentazione, il reading delle parole di Don Primo in collaborazione col Comune di Cremona e la diocese di Cremona con le letture dai testi di Don Primo Mazzolari ad opera di Dario Cantarelli oppure ancora con altre caricature e opere di disegnatori e fumettisti del primo Novecento. Il PAF anche quest'anno per la sua terza edizione è un festival che si connota per essere costruito dal basso portatore di cultura popolare nel vero senso del termine raccordato con molte altre realtà al di fuori della città altri festival culturali, altre manifestazioni a partire dal Salone Internazionale del Libro di Torino ma soprattutto raccordato in rete con molte associazioni gruppi, istituzioni, scuole del territorio cremonese e questo è il significato più importante del Porta Aperte Festival essere in rete, costruire relazioni far crescere il tessuto artistico e culturale della città. Lavoriamo con ospiti straordinari quest'anno anche molti ospiti internazionali su tutti e tre i linguaggi di cui ci occupiamo in materia di fumetto avremo l'autore francese David B che presenterà il suo ultimo lavoro Diario Italiano 2 poi avremo Otto Gabos il disegnatore che presenterà un libro dedicato a Egon Schiele il graphic novel dedicato a Vudigatri con la presenza straordinaria di Luigi De Gregori Luigi Grechi De Gregori e il concerto disegnato che chiuderà tradizionalmente la domenica sera il PAF con Paolo Cossi e Erika Boschiero in ambito di scrittura oltre a Paolo Giordano che sarà nell'anteprima di martedì 19 avremo ospiti straordinari come Sandra Petrignani che presenterà il suo ultimo romanzo dedicato a Natalia Ginzburg avremo Tiziano Scarpa già premio strega che presenterà il suo ultimo romanzo Il Cipiglio del Gufo avremo Cristian Raimo avremo Veronica Raimo avremo Hervan Larerre dalla Francia sopravvissuto alla strage del Bataclan con il suo ultimo romanzo che racconta l'esperienza di questa vicenda incredibile in ambito musicale invece mi piace ricordare il concerto del venerdì sera con Mauro Ermanno Giovanardi e il suo ultimo disco La mia generazione la reinterpretazione di grandi successi di artisti degli anni 90 dai Subsonica ai Marlene Kunz ai CCCP agli After Hours e molti altri aperti da una band cremonese promettentissima come Zai e De Brazzorf e poi il sabato sera la serata indie con Maria Antonietta oltre al già citato Willy Peiote e la domenica sera la presenza di Luigi De Gregori più altri concerti nell'ambito diurno la presenza di Omar Pedrini di Federico Dragogna di Marcus Grimm e altri artisti straordinari e anche lui di essere capito però è mai è la